Questo fatto di sentire i miei denti fissi, io stamattina mi sono messa a piangere. I problemi sono iniziate da piccola, praticamente dall'età infantile. Gli interventi sono stati abbastanza fino all'età di 30-35 anni, dove ho dovuto mettere addirittura dei ponti. I problemi sono iniziati dopo 50 anni, dove questi ponti, mano a mano che andavo avanti, sono caduti. Adesso ho 58 anni e ero disperata, non sapevo più cosa fare. Il problema più grosso era la digestione, non riuscivo più a digerire perché mandavo giù tutta la roba così, senza masticare. Quindi la masticazione e poi il sorriso. Un collega mio, al lavoro, un carissimo amico mio, mi ha detto vai a vedere il dottor Palmas su Facebook. Io ho detto ma chi è? Io ho detto no, guarda, dai un'occhiata e ho girato sui social, da lì sono andata su YouTube e questa cosa mi ha interessata molto. Devo dire che YouTube mi ha molto rassicurata perché spiegano bene tutto, come funziona la cosa. Ho mandato una panoramica al dottor Palmas che mi hanno risposto brevemente, subito. Per me il sorriso è importantissimo nella vita e devo dire la verità adesso sono rinata. Veramente è un cambiamento enorme, ma anche il fatto di masticare, questo fatto di sentire i miei denti fissi, io stamattina mi sono messa a piangere. Quando mi hanno messo i denti definitivi è stata una liberazione per me, una grande liberazione. Mi sono veramente commossa e soprattutto questo sorriso che non vedevo più da ormai da anni. La cosa bella è che ho riacquisito i denti che avevo quando ero più giovane. Il sorriso per me è tutto nella vita è importante, anche per il tuo benessere, no? Giusto? È una cosa importante il sorriso, sì. Mi ha aiutato tantissimo il personale, devo dire la verità, sono stati gentilissimi tutti, dalla donna dalle pulizie al chirurgo, al protesista, al fotografo, all'autista, tutti impeccabili. Neanche voi siete fantastici, veramente, devo ringraziarvi per quello che fate, sì, veramente. Quando ho chiuso la bocca ho sentito i miei denti e lì ho detto no, non è possibile. Questa è stata una cosa che mi sono venute le lacrime quando ho cominciato a masticare e poi mi sono vista allo specchio e lì sono esplose le lacrime proprio perché ho detto no. E sono uscita fuori quando ho visto mio marito, l'ho abbracciato, piangeo dalla soddisfazione, veramente. Era una cosa bellissima. Comunque, veramente, io suggerisco a tutti, soprattutto, di non aspettare, perché più aspetti, più aspetti, più la situazione peggiora, ma soprattutto perché aspettare? Poi alcuni mi hanno detto guarda che Bucarest è bellissima. Ho deciso di tornare qui per fare i controlli. Voglio tornare a Bucarest, non a Bergamo, non lo so perché. Ormai per me è come una famiglia, è come una famiglia qui veramente, sono contenta di... Mi fa piacere anche rivedere, forse dipende anche dalla personalità, non lo so, però mi fa molto piacere rivedere voi.